Hanno interrotto senza preavviso la fornitura di acqua, lasciando a secco 30 famiglie, 8 delle quali con disabili a carico. Siamo a Brindisi, quartiere Perrino, via Learno 38. Protestano i residenti dei Grattacieli, così questi immobili di proprietà di Arca Nord Salento vengono chiamati in città. Quanto debito c'è con Acquedotto Pugliese? Ci sono 181 mila euro di acqua a pagare. Per questo motivo l'Acquedotto Pugliese ha interrotto la fornitura di saggio che ovviamente ricade sulle spalle dei morosi ma anche di chi è in regola. Ieri mattina qualcuno ha notato operaia al lavoro e ha capito cosa stesse accadendo. C'è poca pressione dell'acqua, stiamo lavorando, dice dobbiamo pulire il troncone. Vi siete insospettite? Sì certo, ci siamo insospettite e io sono rimasta affacciata per guardare. Ad un certo punto vedo che prendono delle chiavi per smontare il troncone. Ho detto scusi, ho detto ma non è che ci lasciate senza acqua, ho detto io, perché qui c'è gente che ha bisogno, l'acqua è un bisogno primario. E niente, ci hanno detto no, no signora lo portiamo via 10 minuti, lo puliamo e torniamo. 10 minuti signora, ah va bene ho detto io, ok. Hanno aspettato questo ritorno nella consapevolezza che l'attesa sarebbe stata vana ma che è in regola con i pagamenti, ora si sente abbandonato e che ha problemi di salute e chiede aiuto. L'acqua sì, e mi serve a me l'acqua. Hai ragione. Che mi serve veramente. Grazie signora, proviamo a darle una mano nella speranza insomma che questa nostra denuncia possa aiutare questi cittadini, brave persone che pagano, sono in regola con i pagamenti. Nel frattempo si va avanti come si può. A due passi dal condominio nei pressi del cimitero comunale c'è una fontana. La soluzione tampone è una pratica scomoda e faticosa, ma finché il problema non sarà risolto purtroppo è l'unica.